Sulla delocalizzazione del Policlinico Umberto I di Roma sono molto ottimista. Credo che ci sarà una risposta a breve. Adesso i tecnici stanno valutando le aree e si sta facendo uno studio della viabilità delle zone che possono essere idonee. Dopodiché si parte con la fase operativa reale. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell'inaugurazione della nuova unità di degenza e gestione infermieristica dell'ospedale San Camillo Forlanini. Al tavolo tecnico di ieri ha spiegato con Comune di Roma e Sapienza c'è stato un dialogo sereno e tranquillo, centrato sull'obiettivo che è quello di superare un ospedale che oggi è distribuito su 56 edifici, per averne uno di alta complessità, all'altezza di una tradizione importante come quella dell'Umberto I. Non c'è un'area definitiva, ha sottolineato ancora Rocca, quindi non ci sono notizie sui terreni. Mi assumerò tutte le responsabilità, ma non mi voglio complicare la vita da solo.